E sempre al numero civico, 608 di Via Vestina, mi sono spostata nel negozio a fianco da Pensieri E, che da 35 anni si trova proprio qui su questa via, proponendo articoli da regalo e non solo. Giusto, Anna Maria? Certo, articoli da regalo, faccio liste nozze. 35 anni di attività sono tantissimi. È cambiato il modo di lavorare in questi anni? È cambiato, certo. Che modo? La gente spende di meno. Vabbè, è cambiato nel senso che prima potevamo fare, come posso dire, un programma, adesso è un po' difficile programmarci, ecco. Articoli da regalo e non solo, avete anche angolo del caffè e prodotti tipici? Tipici, certo. Ho l'angolo del caffè, dei biscottini, diciamo, caffarel, ho i vini, li cuori, la pasta, la pasta rustichella d'Abruzzo, per esempio abruzzese, ho il caffè, volevo presentare la macchinetta del caffè, Guzzini. Torniamo all'oggettistica. Questo è anche il punto di riferimento, non solo per gli abitanti della zona, per la lista nozze. Certo. Ho la ditta Guzzini, che fa delle belle cose, poi ho la ditta Brandani, Mascagni, per l'oggettistica, e poi ho la ditta Egizia, di prestigio, diciamo. Il prestigio è importante. Anna Maria, prima di chiudere questa nostra chiacchierata, volevo chiederti di parlare di Via Vestina. Cosa cambieresti di questo tratto? Sicuramente la realizzazione del marciapiede all'altro lato della strada. La cosa più urgente e importante? Urgente e importante, secondo me. Grazie Anna Maria. Niente, grazie a voi. Ci vediamo.